Staccati Cri! Cristiano! Cristiano! Zoom! Regà! Vamos! Che alla fine il player deve uscire per forza, regà! Deve uscire per forza il player! Se ne andiamo in prima, regà! Doppia attacca giù! Eeeh... Bella a tutti ragazzuoli! Bentornati sul canale col vostro LeBegno86! Buon giovedì 28 marzo a tutti! Bedazzi! Nuovo video stesso gioco! Siamo sempre sul pezzo con i Football 2024! Come sempre, se vi fa piacere rimanete sintonizzati sul canale perché oggi più che mai match d'inferno, regà! Lo sappiamo già! Manca una partita! Andiamo a giocarcela! E se arriva la vittoria del nostro Scarsenal significa promozione in prima divisione! Andiamo a mettere la ciliegina sulla torta per la soddisfazione personale, regà! Non si vince niente però! È come a dire... Stiamo sul pezzo! E stiamo sul pezzo, regà! Prima di partire però, come sempre, massimo supporto dei miei ragazzuoli! Quindi, saluti e ringraziamenti! E i saluti vanno al... Buon! Peppe WS! Grandissimo pepuzzo! Il mio Ultrasil Brothers! Alessandro Gamer! È inutile ripetersi! Se non lo conoscete, canale YouTube Alessandro Gamer! La casa del calcio! Iscrizione e campanella attiva per supportarlo! Poi, buon figlio immobiliare for fan del Sium! Rosario YouTube! Ettore Placido! Saverio Zazzacosto Cumpare! Rosario l'abbiamo già preso! Andrea Anelli! DJ Yuri! Otto Cage! Per gli amici il buon Michelino! Mircuzzo Erpete! Santiago Del Rio! Per gli amici Scott Magico Cagliari! Direttamente dalla Sardegna che gioca Ai Football! Leon 46GT! Lucchino! Salutiamo Ale Slaps! Gigi Gallo! CR! Questo è il buon Stefano Moschetti! Grandissimo Stefanuzzo! Interman! Grandissimo Ale! Player fotonico! Andrea Di Lauro! Lucchino Ciali l'abbiamo già preso! Ucumpare Enzo Fiumara! Simo Rosso Nero! Ragazzuolo che ci interagisco tutti i giorni sul mio gruppo Telegram! Gruppo Telegram che ovviamente troverete nella descrizione del video! Ragazzi se volete venire a condividere la vostra passione siete benvenuti! Salutiamo Enrico Panzan! Frank Spacca! Gigi Gallo già preso! Asterix! Nuovi iscritto benvenuto e buona permanenza Brothers! Peppuzzo Agati la vecchia Gloria! Paolo Marinaro! Maurizio Vigo! Ragazzi per i saluti è tutto! Io tolgo il wifi per non farmi ciucciare banda! E siete pronti ragazzi? Siete pronti? Massimo supporto i miei ultras chiamati a supportare lo Scarsenal! L'attesa è finita si comincia! Vamos! O le bedazzi! Come di consitudine! Playstation 5 appena accesa! Bonus d'accesso giornaliero! Giovedì è aggiornamento live! Andiamo a vedere il tutto regà! Anche se noi siamo qui per un'altra cosa! Preparatore di posizione! Sto cercando di sculare il secondo trequartista per un certo Denilson direttamente dalla Brasile che gioca al calcio raga! Denilson trequartista giocatore chiave e andiamo a spaccare il game! Ok! Allenamento, collaborazione, blue lock, campagna... Avatar... Non ci interessa... Aggiornamento riguardo all'errore... Ok! Intanto regà! Apro e chiudo parentesi! Apro e chiudo parentesi! Poi andiamo a giocare! Stamattina sul mio gruppo Telegram! Konami rompe il silenzio! Questione cheater! Io non mi sono sbilanciato! Mi hanno chiesto di fare video! Di dire la mia! Io ho lasciato la palla al balzo a chi lo fa di mestiere! Io sono qui per giocare! Non ho voluto neanche esprimermi! Regà! Per me è uno scempio! È uno schifo! È uno schifo! Dico solo questo! Perché per me alla base ci deve essere il divertimento! E io non mi divertirei mai! Anzi mi sentirei sfigatissimo! Regà! Ma proprio sfigatissimo! Anche se fossi capace a staccare le partite e prendermi la vittoria a tavolino! Oppure a prendermi la partita nulla se dall'altra parte c'è un player che mi sta dando le scopole! Punto! Konami rompe il silenzio perché? Konami rompe il silenzio perché? Perché la community ha fatto bordello! In primisi socio! Ieri ha toccato la patata bollente un altro esponente! Il numero uno in Italia per quanto riguarda iscritti! Regà! Solo iscritti! Ovvero il buon Fabrizio Tropeano! Italia Top Games! Pes Italia! Che conosco dall'inizio dei tempi! Regà! Perché il vostro Alebbeni già c'era in PES 2017 quando è nato tutto! Quindi non è una coincidenza regà! Io non credo alle coincidenze! Konami rompe il silenzio perché la community quella italiana ha fatto rumore! So per certo che dalle analitiche del socio sul suo canale YouTube il video di Simo che denunciava per primo! Per primo Simo per primo in Italia! Non è stato omertoso! Denunciava il problema di cheat! E' stato visto da altre nazioni! So benissimo che dopo poche ore dall'annuncio del video, dalla pubblicazione del video, lo spezzettone di video incriminato aveva raggiunto 500 download con 500 email rivolse verso la casa nipponica! E quindi che regà! Non è una coincidenza! Adesso vediamo come si muove Konami! Se mette all'interno del gioco un programmino anti-cheat! Però già che Konami fa un comunicato ufficiale! Regà! E' una buona cosa! Regà! Significa che all'orecchio la pulce gli è arrivata! Adesso! Cheat, non cheat, cazzi e mazzi! Andiamo a giocare regà! Prima andiamo da proprio lui! Misure contro gli ex-flat! Non dicono cheatare ma ex-flat significa quello! Grazie per il tuo supporto! E poi football 2024! In conformità con i termini di utilizzo durante le manutanzioni settimanali programmate vengono presi provvedimenti nei confronti degli octa-account con comportamenti scorretti e inaccettati! Vogliamo inoltre precisare che d'ora in avanti prenderemo provvedimenti ancora più duri nei confronti delle violazioni di termini di utilizzo! Miriamo a creare un ambiente che permette ai giocatori di competere in modo divertente! Già ci rompete il cazzo voi che se ci avessi il programmatore davanti gli darei una capocciata sui denti con sto cazzo di script! Figuriamoci se l'esperienza videoludica deve diventare ancora peggiore per colpa dei cheat perché voi viaggiate sugli allori e ve ne sbattete i coglioni! Scusate il francesismo! Quindi chiudiamo con buon divertimento con i football 2024 e vediamo le precauzioni che adesso andrà a prendere Konami! Detto ciò, chiuso, non ci perdiamo in chiacchiere, come sempre prima di partire vediamo se partiamo con l'entusiasmo giusto! Calcio di rigore è proprio lui! Caffettino! Sigarettino niente, le devo andare a comprare, risparmiamo salute! Parte proprio lui! Eccezionale! La butta dentro, la mette là dove nessuno può arrivare! Ok dai, ne avanzano 4, il prossimo se lo sbagliamo arrivano 50.000 GP, degli altri giocatori in regalo, sincero, fotte sega raga! Tre brocchi, non li provo neanche! Billy e Maradona li abbiamo presi! Scarsanale è un po' review! Si presenta così, giovedì 28, prende il posto di Militao Showtime e Billy. Centrale ci va lo zio che ho fatto la build difensiva fotonica, togliamo Diego perché ho scoperto ieri in amichevole che qui Neymar, regista creativo, fa un altro mestiere rispetto al classico numero 10, non me ne vogliono i napoletani. Non sono del mestiere, perché Maradona dovrebbe essere 100.000 volte più forte e evidentemente, sicuramente il big time, se il regista creativo, è molto più forte del classico numero 10. Ce lo portiamo in panca, dieguito, che non può mancare. E lo Scarsanale starta così. 4-3-3, prende il posto Pedri che è baggatissimo, regà, cc. Andiamo a vedere chi sarà il nostro primo sfidante di giornata. La situazione è questa, regà. Bene, non benissimo. L'obiettivo di un player che gioca è quello, arrivare lì, far uscire il player e mettere la ciliegina sulla torta e arrivare in prima divisione se si è competenti. 1.788, la matematica è quella, regà. Adesso se arriva la vittoria, secondo me 12 punti potrebbero arrivare e quindi significa prima divisione. L'attesa è finita, si comincia. Rispetto di tutti, paura di nessuno, vamos. Vediamo. Sarà marcia, regà. Perché Konami vuole tenere l'utenza incollata e quindi vorrà far perdere punti al vostro Alebbeni e far inciampare lo Scarsanale. Quindi mi aspetto o un avversario fotonico o la merda nei tubi, regà. O la merda nei tubi. Poi magari invece gira tutto bene. 5 tacche. 5 tacche che accettiamo. 5 tacche che accettiamo. L'entusiasmo è alto. Luca Mauro, 1.6, già in prima. Gioca in casa, siamo fuori casa. Già livello è alto, regà. Potremmo inciampare, eh? Potremmo. Proviamoci, regà. Bianca-nera come consuetudine. Lo Scarsanale si presenta così. Stanno tutti bene. Neymar in forma di grazia. Neymar in forma di grazia. Gli istruzioni individuali ci sono. Difensivo, Viera. Difensivo, Carlos. Contropiede Messi. Contropiede Vinicius. Lui si presenta così. Ok. Sulla carta siamo un pelino più forti noi. Ma se ha raggiunto... Se è già in top 1000... Sa il fatto suo, regà. Sa il fatto suo. Noi siamo pronti, regà. Vamos. Massimo supporto, Bedazzi. Massimo supporto. Ancora caffettino. Ci doppiamo. Devo rimanere concentratissimo. Ho detto, me la gioco tra me e me. Di notte. All'una le due, quando l'infrastruttura è meno sovraccarica e gira bene. Poi ho detto, no, minchia. Una partita del genere da portare sul canale ragazzuori. Vamos. Noi siamo pronti? Lui no. Vediamo se fa qualche aggiustamento tattico. Sì. Kunde. Lui mette Diego SP. Quel pedre è bagatissimo. Belling ha boobustato. Proviamoci, la tattica secondaria è impostata. Sì. Modifica posizione, però. Lui è pronto, regà. Dai, così. Dai, così. Così. 3 quartini mediano C-C-T Ok Istruzioni Difensivo E vedete non è il difensivo Roberto Carlos Se la switcho Poi difendo in 3 E butto giù tutti i santi Lui E il contropiede A Neymar Siamo pronti raga Anche nei tatticismi Se non dovesse girare il primo Switchiamo il secondo Vediamo come gira raga Stiamo attenti che sarà subito Una partita di quelle marce Allora 12 minuti stop Così gioco bene tutta la partita Vamos Dai yeah La scala del calcio Tutto pronto Tutto esaurito Tacca bassa kick off Allè l'avversario va già in pausa L'avversario va già in pausa A fare cose Dico io A far saltare i nervi Al vostro Alebbene 86 A far niente Vamos raga Proviamoci Luca Mauro Unico di devozione E attaccamento ai poloni L'arbitro ha già dato il via cronometro Occhio Via Alza un attacca Appoggiati E' tutto chiuso Bravo Paolino Attenzione Non uscire Paolo Versario fotonico col dribbling di Levet Occhio 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 Uuuu Cosa ha tolto Regà Cosa ha tolto Sì sì dribbla Dribbla bene il brothers Miracolo in manual E' forte Regà E' forte Lo sapevamo già Lo sapevamo già Se inciampiamo Gioco di notte Che gira ancora meglio Che c'è un pizzico di delay Bravo Roby Bravo Roby Attenzione a Luca Mauro 94 Che sa il fatto suo Regà Sa il fatto suo Bravo Pedri Dammi Pedri Vai Messi Vai Messi Lanciati Messi Rientra La sovrapposizione Non passa Con sto tacco marcio Occhio No Non gliela lasciare Fuori 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 Proviamo equilibrati Se siamo un po' più alti Porca puttana Sto L2 Esce bene col cerchio Il brothers Occhio che è partito Occhio Roby Sì Via quadrato Stai attento Ale Stai attento Porca puttana Salta Roby Buona Roby È forte Raga Patrick però Vinicius Ma dagliela bene Patrick Attenzione Stai calmo Ale Cosa ha tolto Regà Cosa ha tolto Calma 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 Tacca una giù Mettiti davanti Buona No 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 Esce Gilberto Bravo Vai da Messi Ma pigiamela Messi Pigiamela Gioca forte Via Mamma mia All'ultimo Non passa Un muro Raga Fortissimo Raga Fortissimo Io non so Massima raggiunta Quant'è Adesso è un top 1000 Beh si Non me lo dà Non me lo dà Bravo Tutta di qua Bellissima Appoggiati Buona Ma non così Tedrito Che non è il suo Marchio di fabbrica Il colpo di testa Fuori gioco L'ho visto Allora 0 a 0 Regà Porca puttana Regà Porca puttana È ancora più difficile Di prima Arrivare In prima divisione Adesso C'è solo lui In campo Cioè Noi stiamo tenendo Stiamo tenendo Lo 0 a 0 Stiamo tenendo Ok Un po' più vicini Un po' più basso Proviamo così Proviamo così Il Sium Il Sium Sta in forma Mi affido Subito a lui Regà Mi affido Subito a lui Tattica Istruzione Individuale Contropiede Il Sium Deve stare su No 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 Devo andare in pausa E dare il contropiede Al Sium Sennò non mi sta su Ma è l'unico Che di testa Me la può tenere su L'unico Meno palle Perdiamo Meglio è Regà Ok Proviamoci Vamos Messi Kick off 1 a 0 Scarsenal Giocata fotonica Ronaldo Messi Messi Fa un altro mestiere Vai 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 Niente esultanza Niente esultanza Tacca e bassa Kick off Tieni duro Tieni duro adesso È forte Regà No no Non puoi uscire Palla al piede Non si può uscire Palla al piede Su sto gioco Che l'ha fatto Il demonio È passato Ma torna Come cazzo Ha fatto a passare Vai Maldini Fai un altro mestiere Così Cri Dai No 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 Mai nella vita Il sensazionale Lì Ma È quel game Eh regà È quel game Siamo andati in vantaggio Non va bene Non va bene Non va bene andare in vantaggio Dai calmo Ho fatto una minchiata Con Vierali Ho perso una palla Eh però sto L2 Ce l'ho Ce l'ho più Però eh Porco diaz Dammi Ronaldo Dammi Ronaldo Non Neymar Lì Che palla è Come cazzo Ha fatto Bravo Roby Portala Paddy Portala Portala Fortissimo Regà È fortissimo Ci si può fare un cazzo È fortissimo Porco diaz Regà È un mostro Un mostro Con le L2 Non passa una biglia Regà Voi non me ne rendete conto Porca puttana Vai Messi No 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 Doppio di marcatura Ha fatto Chiudi la linea Passata lo stesso Iker Tieni là Calcio da Livello Livello alto Regà Livello alto Se no in prima Non ci si va Rimaniamo in D2 Se il livello Non è alto Rimani in D2 Potevamo sculare Magari uno meno forte Questo qui Se è attuale 1.6 Può essere benissimo Top 200 Top 300 Gente che Spamma partite Su partite Sta sul pezzo Abbiamo fatto un tiro Un gol Siamo cinici Quello lo sappiamo Però C'è da impazzire E tra l'altro Niente Questa è la formazione migliore Che posso schierare in campo Adesso Neymar scoppiato Adesso Neymar scoppiato Proviamo a vincerla Regà Entra Kylian Va sull'auto di sinistra Lasciamo Messi Diamo il contropiede Diamo il contropiede a Mbappé Vediamo Kylian Se tira fuori il colpo Dal cilindro Sacrifichiamo Neymar Sacrifichiamo Ney Vamos Quanto sto registrando? 12 Occhio adesso A ste azioni Vagate Va bene Come cazzo ha fatto A passare sta palla? Di prima Pedri Di prima Di prima Pedri Non mi fare sti ciocchi Non mi fare sti ciocchi Pedri Porco Dio Che ti frizzi Se schiaccio X Non me la passi Che su sto gioco Il codice Non ti può permettere Di sbagliare Che prendi gol Alziamo l'attacca 2-1 Ci sta però Regà Ci sta Non è che mi ha dato Un seconda divisione Mi ha dato un player Forte Tutto chiuso Tutto chiuso Tutto chiuso Non ho visto se a contrattacco Mi sa di sì Da come si muove la CPU È entrato Buona l'uscita Provaci Ale Provaci Provaci lo stesso Tutta di qua Niente regà Non passa una biglia Tattica secondaria Proviamo Roby Con l'L2 Non me l'ha preso Perché non ha intercettazione Regà Autoblock L'abbiamo sculato Due minuti più recupero Volevo Madonna è passata lo stesso Sì regà Pareggio Ce lo prendiamo Ce lo prendiamo Andiamo a vedere Vi garantisco Che sto impazzendo E quindi l'avversario Sa il fatto suo Regà Tacche basse Kickoff Ci prendiamo il pareggio Perdiamo qualche punticino Perdiamo qualche punticino Faccio i complimenti a Luca Mauro Fortissimo Regà Fortissimo Vediamo dove militava Due tiri Due gol Siancinici Noi lì Io non sono uno che tira 600 volte Chi mi segue lo sa 2 a 2 Con un player fotonico Secondo me Ci dà punti Regà Ci dà punti È fotonico Cos'è Top 500 Un altro top 300 Regà Sian sul pezzo Regà Ce la giochiamo con Sti player Anche col socio Me la gioco Che anche lui è un top 300 Sian sul pezzo Regà A sto punto Sapete che vi dico Che io ci provo Che io ci provo Stando con la speranza di sculare Un avversario un po' più Meno try harder Meno forte Poi Ose me lo dà più forte Perdiamo Ma se non perdiamo E vinciamo Facciamo 9 punti Li facciamo Quindi secondo sfidante di giornata Vamos Vediamo regà Kylian Mbappé Entra E la butta dentro Regà Vediamo chi sarà il nostro Secondo sfidante Dai Konami Un po' di meritocrazia Non dammi un top 300 Sono ancora in seconda Dammene uno Un po' più alla portata Che devo impazzire Per andare in prima Porca troia 5 tacche che li accettiamo Ben volentieri Regà Ben volentieri Oh Non voglio guardare Voi sapete Regà Io non ho voluto guardare Groza Chelsea Siamo ancora fuori casa Bianca nera Come di consuetudine Per non farmi influenzare Perché Joe sono emotivo Io regà Sono emotivo Ok Lasciamo tutto così L'unica cosa che voglio fare È avvicinare Un po' loro due Per il fraseggio Ok Contro piede veloce Nuno Mendez Terzino offensivo Walker 3-4-3 Sì La rischia Con contro piede veloce La rischia O so il fatto suo Regà Che con quei tre mediani Collanti O se no La rischia Vediamo come si comporta In game La squadra Perché potrebbe Potrebbe venire giù Fortissimo Lo scarse Se l'avversario L'ha portata Vamos regà Vamos Dai cazzo Dai Questo è ancora più concentrato Di quella di prima Contro piede veloce Contro contro piede veloce C'è da stare attentissimi Anche noi Se deve stare attento Lui Dobbiamo stare attenti Anche noi Contro piede è più difficile Da difendere Ma a venire giù Non ce n'è Pensione Salta Patrick Partito Messi Immanuel Col cancel Porca puttana Non esce dal binario Alza un'attacca Salta Buona Pedri Subito Brutta 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 La fretta Mato Sì Vai che l'abbiamo sculato Regà Vai che l'abbiamo sculato Calma 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 Focus Roby Roby Botta risposta No perché lo zio La mette fuori Salta Vinicius Vai zio che ce l'hai Buona zio Vai Pedri Buona Pedri Buona Pedri Ancora L2 Non me l'ha preso Tutta di là che ci ha messi Brutta Brutta Patrick Bravo Billy Così Distriangolo Vinicius Buona 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 Vai Neymar Vai Neymar Vai Neymar Pedri Messi Fainess Batonna Minho Calma che sto vivendo Troppo la partita Calma Buonissimo Prova a darla profonda Nello spazio Ha spaventato la difesa Sì ma non si può fare Sempre tutto da soli C'erano buone opzioni Di passaggio Romario Sceglio di andare Per via verticali Usiamo anche il portiere Rega Occhio che sale in cattedra Sale in cattedra Tutto da rifare Rega È un altro Non forte come quello di prima Senza nulla togliere a lui Secondo me Padda la mano Non è forte come quello di prima Quello di prima era proprio Fortissimo Però Il livello è questo Rega Che giocata fotonica Di Neymar Rega Che assist fotonico Con l'L2 Messo malissimo Riesce ad uscire Tutto chiuso Alzala Buona Così Vai Dagliela bene Che ce li hai i piedi buoni Calmale Calmale Maldini Buona Anche dietro Appoggiati Prova Onei Così Onei in mezzo Buona Tutto chiuso Partito Vinicius Porca puttana Rimane lì Neymar di punta Porca automatic Rega Automatic Pedri Ciao Minchia rega Roby Tempo reggio Tempo reggio Buona Ma dove cazzo L'ha lasciata Rega Dove porca puttana L'ha lasciata Via 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 Dai che è quel game E' che è quel game Pedri Ma dai Alene Entriamo 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 nel marciume Via quadrazzo Salta Leo Non salta Occhio Occhio che sto vedendo troppo Cose strane Poi evidenzio solo le cose negative E si perde Fretta in culo Non si è capito con il compagno Qui Era un tentativo apprezzabile Non ha trovato l'uomo Però A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza Aspettare il momento giusto Doppio attacca giù No 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 Fretta in culo Il peggior nemico di sto gioco Ragiona Partito Messi Dagliela bene Rimaniamo con l'attacca giù Patrick Ness Neymar centrale Neymar centrale Vai Roby Buona Roby Ragiona Via Appoggiati Buono Dai Vai Così Non entra Sì Vai adesso in sei minuti bastardi Così Niente L'1-2 di ritorno Beh prova la Giberto Vaffanculo Sì Non passa Va bene così rega Va bene Così siamo in prima eh rega Così siamo in prima Così Ma manca Pfff Una vita Adesso vedete Cini colui rega Cini colui No la squadra Non cambia niente rega La squadra va bene così La squadra va bene così Sta girando rega Allora è pronto Vamos rega 45 minuti Che ci dividono Dalla soddisfazione Personale Basta Vai un kick off Vai un kick off Vai un kick off Vai un kick off Piano piano Sì Kick off 3-1 Messi Vamos Vinicius Ok Bellissimo Sti binari Che non sono del mestiere Rega è la base del calcio Il passaggio in profondità Per uno che ha i piedi buoni A mandarlo in porta Non siamo su Pespero Attenzione adesso che sale in cattedra Di nuovo lui Via Va bene messo così Roby Male la butta fuori Non ci arriva Calma Calma Alza un'attacca Si riparte con due gol di vantaggio Due gol di vantaggio sono tanti Ma attenzione Nel calcio può succedere di tutto Era per Fabi Era per Gilberto Buona Pedri Buona Madonna come è uscito Bravo qua Subito a Vinicius Capitana Lì ci deve essere De Nilsson Rega Lì ci deve essere De Nilsson Devo sculare trequartista De Nilsson Giocatore chiave Che bola Bravo Roby Eh occhio Alzagliela Non passa Roby Bravo Roby Viene sensazionale che ce la botta tu Così lo pesca pure In profondità Bellissima Deve rientrare Non ce la fa Pedri Danza sul pallone Eh niente Super cance Non sono riuscito Neymar Porca puttana È messo dappertutto È dappertutto adesso eh Messi si frizza Occhio 1-2 Bravo zio Bellissima No niente Bravo Comunque Cioè Non è che è l'ultimo Dei coglioni Subito Non locca la palla Attenzione adesso Attenzione adesso che è un attimo Ma è sì che sia un 3-1 Però è un attimo Devo fraseggiare un po' di più Partito Tieni la linea Tieni la linea Che arriva lo zio A fare il lavoro sporco Perché lui sa lavorare il cuoio Regà Devo tenerla giù Devo tenere palla a terra Perché non ce l'ho il gioco aereo Dai Via Via Deve entrare Sium Bravo Gilberto Messi Porca puttana Arriva in anticipo Porco diaz Sto L2 Quando cazzo lo tolgono Vinicius È partito Che cazzo è questo Walker Se ne ha Walker Walker ne ha 3-1 77 Non adesso Se mi dai billi Via sta palla Dai 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 cazzo Dai cazzo Doppia attacca giù Occhio che entra Maldene Fa un altro mestiere Paolino nazionale CPU fotonica adesso CPU fotonica per lui Regà Sbaglio tutto Fallo Non pischia Voleva andare in pausa Per mettere il Sium Dietro Roby Dietro che non esci Palla al piede Dietro che non esci Palla al piede Sì Porca puttana Volano Regà Vola 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 Bravo Vierà Ragiona Amministra Anche se c'è da andare dietro Falla girare Adesso Così Lunga Così Buona lo scarse Vai Pedri Sbaglia Sbaglia Cerca una ciocca Occhio adesso Immanuel Mi è rimasta lì Gli ultimi due minuti C'è da impazzire Regà C'è da impazzire Pausa Sium Allora Pedri è bollito Pedri è bollito Allora Il Sium Qui ci va Frankie Anzi no Non cambiamo gli stili Che sta girando bene Regista creativo Per regista creativo Ci va il buon Kevin Almeno lui c'è i piedi buoni Dovrebbe sbagliare un po' meno passaggi Forse Forse Contropiede al Sium 14 Fammi stoppare Riabbiare Ok lascio tutto così Le Mar non è scoppiatissimo Quindi Mancano due minuti Due tiri Due gol Attenzione che potrebbe arrivare Tre tiri Tre gol Potrebbe fare Tre tiri Tre gol Dobbiamo farla Girare Sti ultimi minuti Due più recupero Sei frizzato Vai 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 che l'abbia scolato Staccati Cristiano Cristiano Sium Regà Che alla fine Il player Deve uscire per forza Regà Deve uscire per forza Il player Se ne andiamo in prima Regà Doppia attacca giù Via Sì Così Vaffanculo Vaffanculo 4 a 2 Scarsenal Devono arrivare per forza Adesso con i 9 punti Regà Messi si porta a casa Il pallone Eccezionale La pulce Andiamo a vedere dove Militava il nostro avversario Allora Allora È diventato molto più difficile Poi con il metodo Di adesso che in terza divisione ti abbina solo player che sanno il fatto loro e sanno giocare per arrivare in prima ho dovuto spammare 60 partite Regà Allora Ce la prendiamo regà Ce la prendiamo Impara l'arte e mettila da parte Divisione più alta raggiunta Ok L'avversario Militava Top 2000 L'altro L'altro era molto più forte Il top 300 del 2 a 2 È andata bene quella Su quella partita regà Questo Anche forte Ma l'altro Luca Mauro Top 300 si vede Io me la gioco In amichevole Con i top 300 Non lo so se sono ancora top 300 Sicuro Ci Sicuro senza peccare di presunzione Top 500 Top 1000 Per le partite che gioco io Che sono quelle 60 80 partite Lo sono Giocando magari 100 150 Posso essere anche Secondo me un top 200 Un top 300 Regà Senza peccare di presunzione Poi dipende la testa Dipende la linea Dipende un botto di cose Ma oggi è uscito Il player Ci prendiamo La prima divisione Del campionato di football Vamos Regà Lo so già Regà Grazie mille in anticipo Per il supporto Ci rivediamo nella sezione Commenti Il video giunge al termine Se sei arrivato fino a questo punto Il tuo alle bene Ti ringrazia Ti saluta E ci si rivede alla prossima Con un nuovo contenuto Su eFootball Ciao bedazzo PlayStation PlayStation Grazie a tutti